Salve a tutti ragazzi sono Blazigan68 e benvenuti in questo nuovo video Oggi Best of Z con i ragazzuoli Pronto? Un pacco? Si scendo subito, ciao! Ma che è sta roba? Ma bro ma che sta facendo oggi? Ma bro mi sta imitando Ah è vero quando ti è arrivato il pacco Scusate stavo facendo il cosplay di Gianfranco Ma mi stai imitando? Comunque raga mi raccomando pollicino all'insù Soltanto per aver ritirato fuori una intro storica del nostro Blazwan Questa missione si chiama Joseph Il servo leale 3,2,1,3,2,1,3,2,1 Scusate No vabbè ha sculato Giuseppe perché non l'hai fatto in camera tu? Però mi sono semplicemente dimenticato No bro dai vergognoso Ma te lo sei capato No Ma fammi dire Eh diga la Gianfranco No dai Giuseppe No Giuseppe No sei capato tu No bro che mi sceglievo Mi sceglievo questo No bro ma ragazzi io c'ho fu Eh ma che faccio io? Giuseppe che me rimbroglioni con Vegeta Super Saiyan 4 Gianfranco Ma parli proprio tu che tieni il capellone per eccellenza lì Ma chi è? Ah Gohan Ma si Questo praticamente quando si va a fare i capelli con tutta la lacca che usano Mannaggia l'avete capito che dovete venire fino a qua Mannaggia la morte Ma cimbu piccoli Ho fatto una sorta di reaction tipo quando pullo qualcosa Si più o meno Non so se si è sentito nel video No Gianfran niente Puoi rifarmela per favore? No 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 scusami Dai Gianfran si prego Mannaggia la morte Comunque ragazzi Laura Laura cattiva di Fu è tipo bella da diva No ma bro quando uno si chiama Laura Non può essere che cattiva Anche perché è una persona pure poco presente Perché Laura non c'è Vabbè dai bro Stai sgravando le tera Oh bro oggi sei incontenibile bro No no bro ma quando ci sono certe situazioni Meglio essere chiari subito Giore lisp E dai su Joe Friskes Ma dove è andato? Chi è? Ah bro Era scomparso Fu Ok scompaio Ah vabbè è una tecnica Ok forse ne va si fa No Oh c'è ti stiamo svolgendo Un viagrino Si è trasformato in caramelle Ma ragazzi ma che moveset c'ha questo? È un po' sbirulino Non che sbordottino Mamma mia attenzione leggeta Che mannaggia la miseria Ci mannaggia Ben né Lo vedo bello caricuccio Ma io devo provarci Io vorrei chiedo Che vuoi provare sta mostra raga Ma vi fermate Mannaggia mi fate Dai 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 guanetto Raga io non sto Raga mi dovete lasciarlo un attimo Dovete Posso provare un attimo Brocchi, senti Ma cosa è successo? Ci sta tanto da ragionare Ragazzi, io questo personaggio Non ho la minima idea di come funzioni Vabbè, come tu Anche tutti gli altri presenti nel gioco Sono tutti contro di me Per favore, aiuto Lampo finale Ma non lo ricordo proprio così Non faceva così? Ma c'è la miseria Se riesco a chiappare Ma chi è che ha tirato questo missile? Qua non ho preso Nulla Vai qua, netto, visto, vai Ah, posso pericare Ah, hai capito Sì, bro, l'ho capito No Mamma mia, mamma mia Me la sono beccata in pieno Ah, io ti ho attaccato una bomba Ok, colpo subito Dalla miseria, mannaggia Faccia la morte, mannaggia Dai Ma facciamo un intero video di mannaggia Per capire Eh, sto mega sharon A me sta dando un fastidio Mannaggia No, bro, dai Eh, scusa Gianfranco, se che cos'è Lui non parla Cioè, tipo la pedaliera Oppure tipo Con i tasti E dove dice Mannaggia Vabbè, ragazzi Queste cose qua Giocate Ma che botta che mi ha dato Eppure questa Era assolutamente Questa era proprio da Da suo Effetto sonoro Infatti a volte se noti Bro, non è nemmeno la voce di Gianfranco Ah, diceva una registrazione? Sì, sì, capisci No, ragazzi Ma si sta distrugge questo Bro, mi senti Cerca su YouTube Best FX Best Sound FX 2023 Oh, che pasta Mi sta distruggendo Anche questa Vedi, sono tutte frasi Madonna Mannaggia Sono tutte così Come che scerrone de merda No Perché non lo riesco più a colpire Ma va Che f***a un culo, va No, come Oh, comunque Bro Non c'è un esame Lo devo schiattar Sto merda Affanculo A chiappa da sto mare No No E' proprio arrabbiatissimo Affanculo Del punto Si può risolvere Sto distruggendo proprio Ma va Se mettessi un minimo di impegno Piuttosto che dire Cazzate Sicuramente Mamma mia Mamma mia Questo Sai che era Super Mario Però Ha messo il suo Poiso over Sopra Ragazzi Io sapevo Smadonnare Ve lo dico Ma sono tostissimi questi Via Eliminato E vi ho tolto il pensiero Ecco qua Immaccia Ma chi era che era così Super 17 Ma tostissimi questi Ma non la faremo mai Il supremo in questa Raga Dai Ci dobbiamo provare Ma se parti così Ma bro Ma io c'ho un personaggio Che veramente Cioè Proprio lo sbocchi No 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 Scusate Scusate Non volevo Dai Dai Oh eccoli Uè ma Quanto so Quella Con di scatole Questo è Che è successo Ma che Che volevo Che ha fatto Che è successo Non vedete capire Eh Giuseppe Aiuto No bro È proprio stupido Non ci si può fare niente Oh ma Ma perché Oh madonna Non sto capendo Dai dai Ah Giamprano Ho messo pure la capsula Che vuoi di più Ma è qualcosa su di me No Sì sì Eh sapeva Giamprano Hai fatto quella Io ho detto quella La milanese Una pen duomo E via Oggi Ma come si deve fare con te Gianfra Ma che ne sa Giuseppe Ma con te Come devo fare io Perché non organizziamo Un raduno a Milano Tutti e tre Sì Perché no Gianfra Tu decidi la location Vai Ok raga Che devo Dopo 20 minuti di video Ho capito come si usa fu Grandi Sì ma tanto Non la facciamo La suprema Raga Come no Entro 8 minuti Abbiamo fatto ragazzi Dici Io penso di sì Quando fai ste uscite Giuseppe mi crepi proprio Fra Eh bravo Ma questo Mi spacchi proprio Non so perché Perché non me l'aspetto mai Da te Capito Eccolo qua Via Chi è U Chi è U Chi è U Oh Questo è tutto Supremo Ma vi ricordate i bei best of z Quando evitavamo Cioè Dovevamo vietare le capsule Al massimo a una Ma siamo usati Tipo 15 senzu 24 Vabbè ma Ma lì era Una sfida particolare Adesso sai Oh Ma questo fa l'infame Palese Palese torna per combattere Proprio pesanti eh Sti nemici Ma pesantissimi Gianfra perché Allora In primis Cioè Non ti permettere Mai più di giudicare Qualcuno dal peso No Che Gianfra finisce male Ma che sta Ma guardate Guarda Gianfra Perché ho detto che sono pesantissimi Questi proprio Guarda Pessimo proprio Gianfra No eh Chiamo la YouTube Police E intervengono subito E fanno chiudere il canale a Mirko Eh raga Io mi sono appena fatto Quasi tutte Tutte le navi Eh Gianfra Mamma mia No comunque censurano completamente Perché ho fatto Mi sono appena fatto Esatto Solo tu Ci stavi a sottolineare a ste cose No Gianfra Veramente Oggi sei terribile Ma Madonna raga Quanto so Madonna raga Sono troppo forte In sto gioco Ah pochi cazzi eh Sono troppo forte O troppo forti Forte Forte io Ma sono io Sto gioco contro Questo che sta Che spamma Supreme di continuo Cioè sto che Tu raga Non fa capire niente Ma com'è possibile Mannaggia Ah ah Usate anch'io La pedaliera Gianfra Noo 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 raga io ho appena usato tutte le capsule Tutte Dai Gianfra però eh Noo 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 Dai Mirko ci stai Noo Giuseppe Vuoi vedere che ti muto Eh ecco qua Perfetto Ecco qua No ma perfetto tutto Io che batto Kid Buu Tu che muti Giote Lasciamelo 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 Un attimo Lasciamelo Un attimo Guarda 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 che merdone Guarda che merdone Che merdone proprio Proprio di quelli secchi Incrostati Nella tazza proprio Già Franco Pur di prendersi quella kill Ha usato Nella tazza Sì nella tazza d'eccesso Cioè Broma tu l'hai visto come si è preso il personaggio Sì con le palline Gianfranco quando si arrabbia due punti Sei un merdone nella tazza del centro Cioè ma tu te rendi conto dai Ce l'hai fatta Gianfranco Ce l'hai fatta la cacca proprio Ah 78.000 Mamma mia Dimmi che ho vinto Ah 78.000 Preso C S 101.000 Peppe Nielo tra le cazzate oggi vince pure Ah l'ho detto proprio un merdone Merdone incrostato No Gianfranco Puoi spiegare questa cosa incrostata Oh Io comunque ho fatto due best of zeta dove sono andato uno peggio dell'altro Fuori di testa ragazzi Fuori di testa Ragazzi miei un altro best of zeta È arrivato alla fine So che sicuramente avrete visto il video fino alla fine E so che avrete capito chi è il merdone incrostato Ciao Ciao ragazzi Ciao Ciao Grazie per la visione